Wewe ragazzi e bentornati, finalmente, nel nuovo rapporto di stato-casa base del 13 ottobre 2020. Salve comandanti, gli spaventi e tormenti di Fortnite, l'incubo continuano su Salva al Mondo. Diamo un'occhiata a cosa ci aspetta nelle prossime tre settimane per Fortnite Salva al Mondo. Un membro molto speciale di casa base si unirà ai festeggiamenti già dalla prima settimana. Ricordate i contenuti di Fortnite, l'incubo riemergono dalla loro cripta il 20 novembre. Questa settimana, incubo di clip, a partire da venerdì 17 ottobre alle 2, un nauseante e sortilegio imperversa su Exilvania. Un'armaiola è perseguitata da una figura dal suo passato, aiuta a casa base per levare la maledizione prima che sia troppo tardi. Completa questa nuova serie di incarichi per sbloccare il fabbro più amato di casa base, clip. Attenzione ragazzi, clip si presenta con dei vantaggi veramente interessanti. Gli oggetti distrutti dalla carica antimateria hanno una probabilità del 33% di lasciare componenti aggiuntivi. Mentre come comandante, gli oggetti distrutti dalla carica antimateria hanno una probabilità del 100% di lasciare componenti aggiuntivi. Poi vedremo bene nel dettaglio a cosa si riferiscono questi componenti aggiuntivi. Comunque, clip sarà disponibile attraverso la serie di incarichi in cubo di clip. Poi disponibile dal 17 ottobre alle 2, ora italiana nel negozio evento, ritornerà Manny. Durante la sera e la notte, Manny incrementa la velocità di movimento del 25%, mentre come comandante aumenterà la velocità di movimento del 50% e in più diminuisce il costo energetico delle abilità del 50%. E ricordatevi che Manny è uno di quei pochissimi ninja a possedere belle abilità, possiamo chiamarle così. Poi andiamo oltre il ritorno della pistola fantasma. La più spettrale delle pistole torna per sparare da incubo, una pistola lenta che spara proiettili spettrali che attraversano pareti e nemici. Non c'è modo migliore per mostrare al mondo che avete la stoffa del boss dei fantasmi. La pistola fantasma sarà disponibile dal 17 ottobre alle 2 nel negozio dell'evento. Settimana 2 ritornano il corvo e a Citrova Sangue. Il corvo incrementa i danni di Destro Mancino del 25%, inoltre come comandante Destro Mancino provoca esplosioni che infliggono 20 danni energetici base in un raggio di 0,5 unità, mentre a Citrova Sangue aumenta i danni di cariche antimateria del 75% come bonus e 225% come comandante. Settimana 3 la sessione folla è in pieno effetto. I materiali bonus ritornano con la sessione folla, aumenta di livello e fa evolvere i tuoi oggetti preferiti durante il mini evento sessione folla. Per tutta la durata dell'evento, gli incarichi e le allerte missione mini boss forniranno PE, materiali per evoluzione, rivantaggio o stravantaggio in più. Non dimenticate gli incarichi, ognuno con 10 fasi, che garantiscono ricompense uniche e sempre migliori quando completate. La sessione folla, ragazzi, comincerà il 31 ottobre all'una e durerà fino al 20 novembre. È una notte perfetta per mistero e errore con Arlenizza. Ebbene sì ragazzi, disponibile dal 31 ottobre all'una, ora italiana nel negozio dell'evento, ritornerà la nostra amata Arlenizza. Aumenta Sanguisuga Vitale con attacchi in mischia alla costruzione fino al 15% in base alla tua percentuale di salute mancante. In più, come comandante, l'eliminazione in mischia e con alla costruzione hanno un 50% di probabilità di evocare un fantasma. Infine ragazzi, ritornerà anche la lama spettrale. L'affetta Bietti preferito di casa base è tornato. Questa lama spettrale sfrutta la sua velocità di attacco superiore alla media per infliggere danni elevati e prolungati con impatto moderato. Scatena lo squarcio spettrale per teletrasportarti sul nemico bersaglio, infliggendo danni elevati e facendo vacillare i nemici più piccoli. La lama spettrale sarà disponibile dal 31 ottobre all'una, ora italiana, nel negozio dell'evento. Ci vediamo da Xylvania. E qui ragazzi si conclude il nostro rapporto di stato casa base. Noterete che sono leggermente più lunghi perché se prima rilasciavano, diciamo, queste patch notes a cadenza di due settimane, ora le hanno aumentate a cadenza di tre settimane fino a che secondo me arriveremo a una patch notes al mese. Comunque a grandi linee sappiamo cosa succederà, sappiamo che non avremo contenuti nuovi purtroppo a parte le venture che comunque ormai non sono più nuove. Però in compenso avremo la sessione folla precisamente dalla terza settimana. La sessione folla ragazzi è la terza volta che si presenta su Salva al Mondo e altro non è che un evento particolare dove si raccimolano più ricompense. Niente di particolare o di innovativo, mi dispiace deludervi. E niente ragazzi per il video di oggi purtroppo finisce tutto qui. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a qui comunque a guardare il video. Ci tengo molto a sapere voi cosa ne pensate. Se state ancora giocando a Salva al Mondo ragazzi mi sembra che sono rimasto solo io a giocare. Dai, noi ci vediamo con il prossimo episodio. Bella bella! Ciao! Ciao! Ciao!